Raggio gelante, raggio gelante, raggio gelante! Per Gru, essere un super cattivo non è facile. Abbiamo rubato la statua della libertà, quella piccola di Las Vegas. Deve tenere a bada... Ascoltate bene, prego! Un esercito di tirapiedi. Deve essere più furbo... ...del suo spietato arcinemico. Il raggio restringente, no! Io l'odio quello. E sta per avere... Tre piccoli problemi. Allora, niente pianti, starnuti, ruttini o puzzette. Niente rumori molesti. Questo vale come molesto. Da Universal Pictures. Noi compiremo il vero crimine del secolo! Ruberemo... ...la luna! E Chris Meledandri, produttore esecutivo dell'Era Glaciale e Ortone e il Mondo dei Chi. Restringo la luna, rubo la luna... ...mi siedo sulla tazza con... Sei buffo! Fuori! Quando avrò finito con Gru... ...mi chiederà pietà in ginocchio. Dobbiamo avvertirlo. È in fretta! Quest'anno! Anche se è un cattivo... ...non vuol dire che sia cattivo. I tre gattini cominciarono a sbadigliare. Adesso fagli bere il latte. Questa è una schifezza. Ma vi piace davvero? Cattivissimo me! In un 3D spettacolare! È soffice da morire! Si deve solo buttare giù l'astronave. Oh, qualcuno ha messo il broncio! Ok, tocca a me. Ho vinto! È proprio soffice! Cattava! 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 Cattavissimo me!